Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qua per dare altri voti. Oggi valutiamo le copertine di alcuni dischi, di alcuni album usciti in questi ultimi tempi dei nostri cantanti nazionali ed internazionali. Sarà un'avventura entusiasmante. Poi mi direte a fine video se siete d'accordo con me sui voti che sto per dare e se avete qualche altro album da consigliarmi per un'eventuale seconda parte del video. Ho deciso di aprire la Top 50 Italia con tutte le migliori hit del momento e da queste hit valuteremo le copertine dei relativi album. Karma, dei colors. Ah, qua abbiamo dei contrasti psichedelici. Abbiamo il colore, una specie di effetto che ci rimanda quasi al 3D. Quindi niente male, devo dire. Scelta dei colori, bella. Mi piace molto questo contrasto sul verzo dello sfondo. Questa roba arcobaleno che sembra un po' un trip, qualcosa stile Woodstock. Niente male. E notiamo anche, una cosa molto bella, i segni, i segni, ecco, dell'LP sotto. È una tattica già usata in passato ma sempre gradita. Questo è un disco che invecchierà bene perché sembrerà uguale anche quando sarà rovinato poiché era già appunto rovinato. Non mi dispiace, la scritta posizionata in alto abbiamo una composizione a tris, possiamo dire. Vedete? Perché la scritta si conclude qua. Abbiamo uno spazio in cui c'è una mutazione e qua abbiamo il collasso. Niente male, questa è studiata in maniera dettagliata. Dall'altro lato, invece, abbiamo la seconda e la quarta lettera della parola che vanno perfettamente a tagliare, ecco, io adesso qua le ho fatte in maniera un po' sbagliata, tagliano le due linee verticali di questo nostro tris. Quindi, a questo punto voglio dire, abbiamo una composizione dotata di buona simmetria. Qua sotto abbiamo invece una scelta compositiva un pochino diversa. Eh? Ma niente male, niente male, mi piacciono molto qua i colori. Quindi in lati positivi, colori, composizione e anche tris. Bene, non funziona più, se è rifiutata, ah già, scusate. Ecco, tris, quindi qua uno può fare un meraviglioso tris. Anche sull'L più originale, così lo rovina e poi lo rivende a 10 centesimi. Qua voglio andare sull'otto, niente male. Questo qua, anche in grande, su un bel LP, non è male. Mi piacerebbe vedere il retro, sinceramente, perché a volte anche il retro ci offre delle continuazioni di ciò che c'è davanti. Sarebbe bello. Cos'altro possiamo prendere? Allora, vediamo un po'. Alcune non le conosco. Beh, questa qua, dai, è famosa. Storie brevi, la copertina non l'ho mai vista, quindi adesso la vediamo per la prima volta. Ok, ok, va bene, ci possiamo lavorare. Tananai e Annalisa, e qua abbiamo una composizione su bianco e nero, quindi un grande classico. Qua riprendiamo uno stile fotografico. Vorrei sapere il nome del fotografo, perché è una cosa importante, perché in effetti è una composizione che ci rimanda ad alcuni lavori di fotografi famosi, storici, dei quali non rammento i nomi, ma comunque pazienza. A me piace vedere in queste copertine fotografiche i particolari, perché sono quelli che fanno la differenza. Allora, abbiamo in alto, qua abbiamo una posa che ci richiama le statue del Canova, signori, perché abbiamo una sinuosità da questo lato. Un'altra qui, che si conclude, dove inizia l'altra, visto? Qua è tutto studiato, eh. Lo sguardo, vediamo un po' se c'è qualcosa che troviamo anche nello sguardo, eh. Dunque, così. No. Invece questo, così. Probabilmente si crea un angolo, qua. Voglio vedere qua dietro cosa abbiamo. Cosa sono queste? Case, campeggio, villaggio. Può essere una foto estiva. Abbiamo degli alberi messi giù in stile un po' Slenderman. Mi aspetterei di vedere qua dietro a lui che compare. Sarebbe una cosa molto carina. Abbiamo qua altre inclinazioni, visto che richiamano, guardate, attenzione, parallele a questa. Visto che ci abbiamo visto giusto prima con questa linea, abbiamo trovato una parallela. Se ne troviamo una anche parallela a questa, vinciamo il jackpot. Beh, per adesso no, perché abbiamo lo sfondo così. Vabbè, me l'ha anche fatta molto dritta, ma pazienza. Abbiamo qui, invece, alberi che si storgono, creano un dinamismo quasi delle X. Vorranno dire qualcosa? La scienza indaga. E qua abbiamo l'erba che anche lei crea tante direzioni diverse. Vabbè, la cosa che apprezzo sinceramente di questa copertina è che non ha scritte. Io c'era un po' di anni fa, avevo l'ossessione di copertine senza scritte, perché mi sembravano veramente più belle. Potevi proprio immergerti in quello che era lo sfondo, in quello che era il significato dell'immagine. Senza scritte qua, ta, na, na e così via, no? Quindi adesso questo lo vorrei togliere. Non si può. Ok, grazie mille. Ah, vabbè, così. Quindi, invece qua ecco, mi piace il fatto che non ha scritte. Questa è una cosa che a me personalmente piace, voglio dargli qualcosa in più. Quindi questo qui, dai, un buon nove meno, eh? Meno perché, insomma, dai, possiamo anche trovare di meglio, chi lo sa. Cos'altro prendiamo? Andiamo un po' giù, insomma, offriamo un'opportunità anche a gente un po' più giù in classifica. Abbiamo Dua Lipa, Dua Lipa. Training Season. Che devo dirvi, ragazzi? Qua abbiamo molto rigore perché abbiamo veramente linee decise, molto, molto dritte. Abbiamo poco dinamismo perché abbiamo qua una linea che ci taglia proprio completamente la copertina. E abbiamo poi una U, potrebbe anche essere così, ecco, che ci crea la cantante. Linee nette fatta con un font che uso a volte io su Final Cut Pro, un font che riconosco. Queste sono la seconda volta in cui troviamo un'inclinazione in questa copertina. Perché la prima volta è stata questa. La gamba, abbiamo qui un'inclinazione sui 30 gradi, direi, che ci rompe questa grande rigidità della parte superiore della copertina. E sotto il nulla. Vedete, è anche un pochino spostata verso l'alto. Quindi anche qui potremmo fare una suddivisione a tre. Visto? Perché abbiamo questa parte, qui dove succede ciò, succede il tutto. La copertina cade specialmente in questo pezzo, ma sono importanti anche i pezzi laterali, perché ci offrono un po' di respiro. Abbiamo bianco, bianco e qua sotto la scritta. Io avrei tolto questa, sinceramente. Questi caratteri qua, che trovi appunto su Word e su Final Cut, vabbè, magari era una cosa voluta. Era voluta per rendere un po' relatable. Però in quel caso avremmo avuto un po' di squilibrio tra la parte bianca qua sotto, piuttosto lunga, e la parte bianca sopra. Forse senza scritta avremmo potuto spostare questa linea più giù. Avremmo la metà della nostra tavola, della nostra copertina, esattamente qui, dove c'è lo sguardo, a metà dello sguardo. Qua sarebbe stata veramente bella, avrebbe concluso questa grande e forte staticità. Dato che è la somma che fa il totale, detto tutto, detto ciò, voglio dargli un 6,5. Eh ragazzi, al di là della bellezza di Dua Lipa e così via, e delle canzoni che non stiamo valutando, stiamo valutando solamente la copertina. Voglio fermarmi al 6,5. Dai, un'altra, un'ultima. Vorrei beccare una copertina un po' ricca, perché ce ne sono alcune, vedete, che sono molto semplici. Abbiamo FOT, primo piano, vuoi qualcosa un po' caotica, così possiamo valutare un po' più di cose. Questa mi sembra bella, David Guetta e One Republic, vediamo un po'. Dunque... Ma sì, dai qua c'è molta roba da valutare. Poi mi piace molto quando le copertine sono animate. Bellissimo, io veramente, quando c'è l'animazione, già è un punto in più di valutazione, eh, ve lo dico subito. Dai, chiudiamo in bellezza con questa qua. Questa ricchezza di particolari, di dettagli. Dunque, io qua, devo dirvi, riconosco qualche citazione all'album Dangerous di Michael Jackson. Per simmetria, una lieve somiglianza nella composizione e qualche caratteristica che mi richiama un po' la copertina, anche se quella là era nettamente più bella di questa. Io a quella li do un 10 e l'ho, ve lo dico subito. Questa qui, va bene, un momento, una cosa alla volta. Abbiamo un font che ovviamente richiama il logo degli One Republic. Sotto abbiamo invece una specie di logo relativo all'album, quindi un font dedicato all'album Artificial Paradise, Paradiso Artificiale. Vediamo un po' quali sono le caratteristiche che richiamano questo paradiso e perché artificiale. Vediamo se lo si può capire dalla copertina, eh, è importante. Abbiamo qua il pianeta. Ah, questa qua è la sfera da discoteca. Non male, non male. Quindi abbiamo il pianeta che si contrappone al pianeta del ballo. Vabbè, questa è una cavolata. Poi abbiamo qua in cima l'occhio, eh, Paradiso, l'occhio, il Sole, eh, qua lascio a voi i dovuti riferimenti. Il cuore con le spine, la croce. Abbiamo un netto riferimento al Paradiso, va bene, quello c'è. Abbiamo una giovane ballerina, di qua invece un'altra ballerina con lo zaino. Ci sono tantissimi dettagli se lo zoomiamo, ragazzi. Questa copertina è veramente da LP, così ce l'hai bella grande, la puoi vedere tutta e puoi perderti nei tanti dettagli. Che ce ne sono, più zoomi e più ne vedi. Un UFO, un UFO. Abbiamo qua i marziani che sono pronti a conquistarci. Un'altra ballerina. Forse ci vuol far capire che abbiamo un disco Paradise. Qua abbiamo una perfetta simmetria. Un'auto in mezzo, quindi ha una grande importanza quest'auto. Completamente in mezzo. Abbiamo una simmetria determinante qui, zac. Allora, perché non me lo fa? Benissimo. Guardate. L'auto ci proprio, ci sbatte il suo muso addosso. Completamente. E crea qua una prospettiva, vedete? Centrale, due enormi rose dietro alle statue, due cavalli, anche loro quasi uguali. Un pappagallo, un altro qui. Allora, abbiamo fin troppa simmetria, secondo me, perché questi, questi, i cactus, sono un po' diversi tra di loro, va bene. Questi sì. Qua va a fuoco la palma. Ma attenzione, attenzione, cosa succede qui? E comunque la faccia della bambina è allegra. Cosa succede qui? Cosa succede qui? C'è qualcosa che è accaduto e che non sappiamo. Di qua invece, tutto a posto. La palma è innevata. Che è strano vedere una palma innevata. E converrete con me. Saturno. Lufo che richiama un po' Saturno, inclinazione opposta e anche vari richiami al pianeta, ovviamente, per forma e per tutto. Una specie di effetto, di illusione ottica, potevano magari, secondo me, espanderla anche in questa zona. Così forse l'occhio iniziava a metterla in movimento da solo, senza aggiungere un'animazione. Sarebbe stato molto bello, ragazzi, una copertina che, anziché animarla, come fanno su Apple Music di solito, e ultimamente, si fosse animata da sola. Cioè l'occhio, procedendo per vari tipi di trabocchetti ottici, vedesse movimento dove in realtà non c'è. Questo sarebbe stata una cosa molto bella. Vabbè, detto questo, mi sa che l'abbiamo visto un po' tutto. È stato un po' lungo, perché in effetti è grossa come copertina. Colonnati, colonnati classici, niente male. Contrapposizione di elementi classici a elementi semimoderni, candelabri classici, ma non quanto questi colonnati. UFO, futuro. Questa è una copertina che ci fa molto viaggiare, però sinceramente, dopo questa analisi, io devo dire, ci sono molte cose dentro, però mi sembrano un pochino messe a caso. Eh, non vorrei dire, poi magari c'è il significato. A me sembra messo un pochino a caso. Non ci vedo un... Mi sembra, vabbè, il paradiso contiene un po' tutto. Ciò che era, ciò che è, ciò che sarà, va bene. Però, a parte questo, non noto una enorme coerenza. Lo sfondo nero... Io avrei messo qualcosa, sinceramente. Un altro sfondo, qualcosa dietro che ci fa percepire questo ingresso. Una volta che c'entriamo, cosa vediamo oltre? Tanti punti di domanda. Eh, tanti, 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 tanti. Io qui voglio dargli un 5+. Eh, il più è per spronarlo. Eccoci qui! Allora, sì, questi qua in realtà erano solamente per bellezza, perché li abbiamo valutati in maniera digitale con l'Apple Pencil. Infatti questa qua era già un bel indizio, eh, di quello che avevamo fatto. Sì, perché, insomma, disegnare sulle copertine, già che me li compro, non mi piace rovinarle. Potrei metterci una carta pelina sopra per mettere il voto. Va bene, ma secondo me va bene anche così sull'iPad, no? Cosa ne pensate? Ditemi se siete d'accordo con i voti che ho dato. So che potrebbero dividere in fatto di opinioni. Sono opinioni forti. Direi che ho parlato fin troppo, quindi vi lascio un altro video di valutazioni, stavolta sulla stima enigmistica. Ciao e grazie, al prossimo video!